Ma le ho detto che non me ne posso andare. Ho un appuntamento con una persona, poi è importante questo appuntamento. Se me ne vado poi non mi trova più. E io le ripeto che qui può parcheggiare solo il Presidente della Repubblica nelle occasioni ufficiali, quindi salga in auto, se no gliela faccio portare. Ma può essere un po' comprensivo. Un attimo di pazienza, un minuto me ne vado. Ma quale minuto? Ma se è un'ora che sta qui. Allora mi faccia sta muta. E certo. Non la faccia così contenta. Walter. Rossana. Ciao. Ma che è la potestà? Ciao, piacere. Piacere mio. Ciao. Ma che fine hai fatto? Dove sei sparita? E' un'ora che sono qui. No, ma ti aspettavo davanti alla Racelli. Ma perché? Non è questa. Ma no, questi sono i fori imperiali. Guardi, lo scusi, ma insomma, credo di essermi spiegata male io. Va bene, vada, vada. Per stavolta senza multa, ma solo perché sta con la signora potestà. Grazie. Anzi, non è che per caso mi fa un autografo. Ma certo. Ecco qui. Grazie mille. Grazie a lei. Arrivederci. 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 E poi funziona sempre così. Insomma, siamo a Roma.